È possibile. Mai avrei immaginato che qualcuno potesse entrare nel mondo immobile di Dio. Il tempo era bloccato, ma tu mi hai seguito con gli occhi. Sai, mi ricordi un bambino che impara ad andare in bicicletta. Non appena afferra l'idea di come si fa, si mette a scorrazzare come gli pare.